Massima severità nelle sanzioni contro le tifoserie violente, questo all'orientamento del Viminale dopo gli scontri tra Ultra del Napoli e della Roma in A1. Una stretta da attuare con le norme già esistenti e non ricorrendo a nuovi interventi legislativi. Negli ultimi quattro anni è stato sottolineato nel vertice proprio al Ministero dell'Interno i dati sugli incidenti legati alle manifestazioni sportive sono positivi, non si sono verificati fatti gravi negli stadi. Quindi si è posto l'accento sul carattere strategico delle nuove tecnologie per individuare i responsabili delle condotte violente. Quello di oggi evidenzia il Ministero è stato un primo incontro, ne seguiranno altri e il confronto con il mondo sportivo sarà costante. Sul fronte delle misure restrittive nei confronti delle tifoserie violente saranno prese decisioni da parte dell'Osservatorio Nazionale delle Manifestazioni Sportive fino ad arrivare a vietare la trasferta. Quanto alla mancata convalida degli arresti in flagranza differita di alcuni tifosi, nelle valutazioni del Viminale le eventuali responsabilità di violenze potranno essere accertate anche senza l'arresto prima del processo. Per i protagonisti dei fatti lungo l'autosore scatteranno comunque i daspo.